A due mesi dal crollo del pavimento all'asilo del Pino, che per fortuna non ha fatto danni alle persone, men che meno ai bimbi che erano già presenti, la situazione dei genitori, delle bambini e degli insegnanti di questa struttura che ospitava circa 75 bambini è ancora con un punto interrogativo. Daila è la mamma di un bimbo di 4 anni che frequentava l'asilo del Pino e che ora è nell'asilo di Ribasso. Che giorni sono stati per voi questi, Daila? Diciamo che dal 18, dall'email che ci è arrivata, che non accetteranno più le iscrizioni all'anno prossimo, un po' di subbuglio c'è stato, soprattutto il 19 il giorno dopo, tra le mamme ci fermavamo a chiedere ma quindi dove andranno a finire le nostre maestre, la Rita, la Dani, la nostra cuoca, i nostri bambini, dove saranno? Dove? E poi che altro poi si staccheranno dai soliti compagni di classe, quindi dovranno iniziare un'altra realtà nuova? Dove? Ecco, il punto interrogativo nasce appunto al 18 con un'email del presidente Sivori dell'Associazione dell'Asilo del Pino che comunicava ai genitori non siamo in grado di stabilire dei tempi per un'eventuale apertura, della realizzazione dei lavori che sicuramente saranno richiesti e quindi vi invitava le famiglie ad iscrivere i bambini in altre realtà. Che giro avete fatto? Tenendo presente che il 18, quando arriva questa email, è lo stesso giorno in cui iniziano le iscrizioni, un tempismo meraviglioso. Perfetto, azzeccatissimo. Quindi dal 18 infatti fino al 10 di febbraio ti devi muovere, anche perché ci sono anche tanti altri bambini se lo vuoi iscrivere nel pubblico, e quindi devi iscriverlo il prima possibile per assicurarti il posto, a meno che appunto non lo vuoi spostare in altri posti. Io stavo ancora valutando, non l'ho iscritto ancora da nessuna parte, se c'è uno spiraglio di luce, arriverà un'altra email, se si muoverà qualcosa, non lo so. Noi sappiamo che è previsto un incontro a poche ore in comune fra l'assessore alla scuola e i genitori. Cosa vi aspettate da questo incontro? Una soluzione. Sono stati così bravi e veloci a trovare una soluzione qua a ribasso, vediamo, vediamo cosa diranno a breve. A ribasso voi avete mantenuto le stesse insegnanti che avevate qui all'asilo del Pino e la stessa cuoca, quindi avete formato un altro nucleo, però siete rimasti uniti. Come vivono i bambini questo momento che forse sarà di distacco con appunto le insegnanti e quello che insomma hanno vissuto in questi ultimi mesi? Io ho provato a parlare a mio figlio spiegando la situazione, ma non è che riesce proprio a capire. Gli ho detto che casomai andremo nella stessa scuola con altre maestre, lì si è un po' perché vuole la sua maestra giustamente, la maestra Raffaella. Quindi ora vediamo, io aspetto ancora un attimo appunto per vedere se trovano una soluzione, se c'è una soluzione, perché il posti adesso, lì a ribasso c'è, ci sono. Sta al comune direi che è al presidente. Vogliamo puntualizzare che a ribasso l'associazione dell'asilo del Pino si è fatta carico sia dell'affitto e ha continuato a retribuire i propri dipendenti. Esattamente. Infatti lì nell'e-mail è specificato che per una questione è anche finanziaria, perché comunque dove devono pagare un affitto, non hanno gli affitti che gli entravano l'anno scorso, eccetera, quest'anno, perché comunque è sotto sequestro locale e in più stanno pagando anche un servizio del pulmino per chi comunque è aderito, io nel mio caso no, però quindi ha tante spese e poche entrate. Le maestre cosa dicono? Le maestre non sono molto dispiaciute, ma non ho avuto modo di parlare solo con la Daniela Larita all'ingresso, che si occupano di fare entrare i bambini, ma sono molto speranzose, ma anche un po' rattristate da quello che è stato detto, quello che è stato scritto nell'e-mail. Vedremo.